I carabinieri di Paola con il supporto dello squadrone li portato cacciatori di Calabria capaci di infiltrarsi nelle aree più impervie e celate del territorio hanno rinvenuto due coltivazioni di canapa nei comuni di San Lucido e Cetraro sul Tirreno Cosentino. Le piantagioni erano composte complessivamente da oltre 2.300 arbusti alti fino a 3 metri. Secondo quanto è stato possibile stabilire avrebbero potuto produrre decine di chili di marijuana. La distruzione è avvenuta sotto la supervisione dei vigili del fuoco per evitare il pericolo di incendi boschivi e le indagini proseguono per individuare i responsabili.